Viaia di persone perché ci sono tutti i comuni intorno, compreso Bisignano, che abbiamo questo ospedale come ospedale di riferimento. Io proprio ieri sono stato al pronto soccorso di Cosenza e devo dire che nonostante la bravura, la professionalità dei medici e degli operatori sanitari che c'erano, si notava che c'era un problema di sovraffollamento e si notavano grossi disagi. Allora questi ospedali possono servire a decongestionare i grandi ospedali delle città capoluogo e possono servire a limitare i disagi, a offrire cure immediate alle persone. Io ricordo, mi interessai di questo ospedale già per il punto nascite, ricordo questo episodio che lo voglio dire e vi ringrazio per l'opportunità. Qui è stato tagliato un punto nascite perché c'erano meno nascite della soglia consentita che era 500, però mi ricordo che questo ospedale fece registrare un numero di parti naturali superiori alla media nazionale che è un'eccellenza, perché il parto naturale scientificamente è un parto più sicuro del parto cesario. Qui si registravano più parti naturali della media eppure il punto nascite purtroppo è dovuto soccombere per la spending review. Noi capiamo che ci sono delle difficoltà a livello sanitario e a livello sanitario calabrese, però come sindaci del territorio ci mettiamo a disposizione per sederci a un tavolo e aiutare magari gli operatori, i dirigenti sanitari a trovare delle soluzioni migliori. Qui abbiamo bisogno di ripartire dalla tutela dell'individuo, la tutela dell'essere umano innanzitutto dalla sanità. Grazie.